Il settore dell'abbigliamento dovrà attendere il 2024 per il recovery. Il mercato fashion nel 2022 tra gennaio e ottobre ha segnato un più 9% a valore, registrando però un recupero solo parziale rispetto al periodo pre-covid, con un meno 5,7% sul 2019 ed evidenziando un rallentamento a partire dai mesi estivi a causa dei prezzi crescenti e di una stagione autunnale partita molto in ritardo. È quanto emerso dal Fashion Consumer Panel, l'osservatorio mensile dei consumi fashion in Italia di sita ricerca, nel webinar intitolato Scenari e previsioni 2023 per il fashion system italiano, che si è svolto martedì 13 dicembre. Secondo le previsioni illustrate da Fabio Savelli, amministratore delegato di sita ricerca, il fashion in Italia chiuderà a più 8,1% nel 2022 e a più 1,3% nel 2023, con prezzi in continua crescita. Ma questa è solo un'anteprima degli argomenti trattati nel corso del webinar, i cui atti sono disponibili al costo di 250 euro. Per acquistarli e per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo daniele.spelta-sitaricerca.com Continuate a seguirci per i prossimi appuntamenti.